ciao amici da vittorio la lazio ha bisogno di una vittoria scaccia crisi e la vittoria è arrivata contro il parma una buona prestazione della lazio non eccezionale ma una lazio che dopo un po di incertezza nel primo tempo nel secondo tempo ha preso ha dominato il campo e ha portato a casa questi tre punti molto molto importanti tre punti dettati dai talenti luis alberto correa mininkovic savic e immobile hanno deciso la partita luis alberto con l'assist del primo gol mininkovic savic con l'assist perfetto a marusic e insomma la lazio è tornata a vincere un po di insicurezza in fase difensiva però tutto sommato la lazio ha vinto con merito contro un parma che è sempre una squadra ostica da segnalare che l'undio iniziale era lo stesso dello scorso anno con marusic al posto di lazari nessuno del nuovo acquisto della lazio ha giocato dal primo minuto insomma questo vi fa capire anche un po come stanno andando male i nuovi acquisti della lazio vavro sembra sparito dal radar oggi è entrato in campo solo johnny dei nuovi arrivi per cui insomma un punto di domanda come un punto di domanda come ha giocato la lazio insomma nelle prime partite lazio con pressing altissimo nella metà campo avversaria oggi invece la lazio ha atteso nella propria metà campo niente pressing elevato neanche calcio molto rapido come avevamo visto nelle prime giornate la lazio ha cercato di far girare la palla di trovare il varco giusto e poi di andare in profondità in attacco con il talento di con la velocità di correa immobile e gli assist di vinico isavic e lui salvetto un po la lazio vecchia dello scorso anno chissà se in zaghi ha avuto un un cambio d'idea ed è tornata la lazio di ieri da segnalare la mossa vincente forse di questa lazio felipe luiz su gervinio gervinio era l'avversario più ostico più pericoloso di questo parma annullato da un felipe luiz strepitoso strepitoso brasiliano quando non si fa male è veramente un grandissimo talento oggi l'ha dimostrato perché veloce è bravo con i piedi è un ottimo marcatore è anche grosso non soffre anche forte di testa per cui veramente un difensore fortissimo oggi lo ha dimostrato contro un avversario molto ostico gervinio praticamente non ha strusciato palla da segnalare anche marusic che non solo ha segnato ma ha giocato bene come ci aspettavamo lo scorso anno la lazio però secondo me ha un problema nel senso che gioca poco sulla destra marusic era spesso libero e la lazio continua ad andare da lulic che purtroppo ha evidenziato i soliti problemi difficoltà nel cross dentro tanti passaggi sbagliati ma comunque tutto sommato buona prova di marusic che insomma così inizia un po a mettere sotto pressione lazari perché oggi bene bene marusic mi è piaciuto del resto il giocatore secondo me ha un ottimo potenziale fisicamente forte ha una grande progressione ha un bel tiro da fuori gli manca la testa nel senso che a volte ha troppa paura come un po tutta questa lazio nelle partite importanti però la lazio porta a casa tre punti importantissimi una prova tutto sommato convincente che speriamo di a morale fiducia la lazio da segnalare un ciro immobile che è uscito dopo il gol poco contento con simone zaghi anche anzi piuttosto arrabbiato c'è stata una discussione fra i due vedremo che cosa porterà in seguito però mi è piaciuto ciro immobile oggi aveva una grande voglia di vincere e l'ha dimostrato un bellissimo gol un diagonale perfetto e poi sempre nel vivo dell'azione un ciro immobile molto molto tonico ma in generale quando girano i fantastici 4 la lazio può battere chiunque certo meno meno giochetti in area di rigore come abbiamo visto oggi nel primo tempo di correa e invece più concretezza questa lazio può battere chiunque però abbiamo già visto in passato che insomma la lazio ogni tanto vuole fare la giocata bella anziché cercare di chiudere la partita e poi in difesa bisogna risolvere un po di indecisioni rado oggi non benissimo insomma con felipe luiz così la lazio può avere una grande difesa però bisogna registrare un po stracoscia incerto in un paio di uscite anche se protagonista di una grande parata e un rado che invece ha sbagliato qualcosa di troppo mercoledì c'è l'inter partita molto molto più complicata di questa e io vi aspetto lunedì alle 9 italiane diretta per parlare di lazio e di tutto quello che volete ok ciao ragazzi scrivete nei commenti e se non siete ancora registrati fatelo subito ciao